Lunedì, iniziativa del PD sulla questione ambientale, Campania in Felix, il titolo di questo dibattito. È dagli anni 90 che questo territorio, il nostro territorio, viene utilizzato come enorme sversatoio di rifiuti tossici provenienti da ogni parte d'Italia e da ogni parte d'Europa, nell'indifferenza di istituzioni locali e nazionali. Questo ha provocato e continua a provocare morti, perché i morti in tutte le nostre famiglie per neoplasie, per tumori, sono all'ordine del giorno. I cittadini casettani hanno imparato sulla loro pelle che la camorra non ammazza soltanto con le pistole, ma ammazza anche attraverso i rifiuti tossici. E quindi di questo parleremo lunedì. Parleremo della più grande mattanza di vittime civili che si è consumata in Italia e proveremo a immaginare insieme delle soluzioni. Lo faremo con tanti ospiti importanti, da Don Maurizio Patriciello, passando per il giudice Raffaele Cantone, Alessandro Bratti che è il capogruppo del Partito Demacoratico della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Enrico Fontana di Libera e tanti tanti altri che ci aiuteranno a fare un quadro della situazione.